Beh dai, alla fine comunque è uscita fuori una settimana abbastanza interessante anche per certi versi, no? C'è chi magari se ne sarà fregato completamente di questi tornei in attesa di Wimbledon che inizia praticamente dopo domani, il momento in cui sto registrando il video. Però comunque alla fine ci sono stati due tornei, i tornei femminili in cui abbiamo avuto due italiane in semifinale e una di queste è in finale, Lucia Bronzetti e poi vabbè due tornei maschili in cui presenza di italiani relativa, insomma avevamo cecchinato se non erro e credo basta, andando così a memoria però vabbè. E poi ovviamente le qualificazioni di Wimbledon, si sperava ok di qualificare magari un italiano, due italiani in più, però alla fine per quanto riguarda i maschi passa al main draw, quindi si qualifica al main draw Matteo Arnaldi che in generale è il più completo ed è quello che merita di più. Per quanto riguarda le ragazze, Stefanini insomma è lì al ridosso della centesima posizione, batte una giocatrice che è rientrata da non molto, non giocava da molto tempo, sto parlando della Sie, la taiwanese, caratteristiche particolari, dritto a due mani, però insomma su Erba è una giocatrice che può essere veramente ostica, infatti comunque è stata una battaglia al terzo set vinto proprio da Stefanini, 11-9 al tiebreak. Quindi insomma brava la Stefanini, innanzitutto ben ritrovati in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, quindi su questa settimana tennistica. Partiamo dai tornei della settimana, tornei ATP entrambi 250, a Mallorca, Eubanks numero 77 americano, meglio statunitense, e in finale è una grossa possibilità, no? Si è affacciato, si fece vedere nell'ATP di Miami, se non erro, o Indian West, insomma uno dei due master mille del cosiddetto Sunshine Double, adesso non ricordo, però insomma uscì fuori lì, fino ad allora praticamente giocava quasi solo Challenger, no? E ora è in finale, in prima finale, in un torneo ATP, tra l'altro a Miami fece quarti di finale, se non vado errato, sì, tra parentesi, vabbè. Qui ATP 250 di Mallorca, finale, affronterà uno fra Anfman e Manarino. Per quanto riguarda invece l'ATP 250 di Eastbourne, interrotte per pioggia attualmente le semifinali, avevamo McDonald contro Serundolo, un set pari ma un bel vantaggio per Serundolo, e Barrer, Paul, l'altra semifinale. Per quanto riguarda le ragazze invece, WTA 500 di Eastbourne, il torneo più importante della settimana, Kiss, Kasatkina sarà la finale, in semifinale avevamo Camila Giorgi che perde proprio contro la Russa, contro Kasatkina, 6-2, 7-5, ma il peccato tra virgolette è sempre quello, perché? Perché c'è un'altalenanza incredibile, cioè passi da punti, non dico straordinari perché almeno per quel che ho visto io, sia il secondo set più o meno, insomma, non punti proprio straordinari, però quando Camila lascia andare il braccio, anche perché lui lo lascia andare sempre il braccio, però insomma, quando gli entrano quei colpi, quando è in palla, veramente fa male alle avversarie, però il problema è che spesso alterna grandi punti a fesserie colossali, perché? Perché non ha magari il tocco, non ha la decenza di alzare un po' la traiettoria, cioè tira sempre a tutto braccio, insomma, delle volte ci vuole anche un po' di delicatezza, un po' di, cioè, lo ripetiamo ogni volta, però prendiamola per com'è ormai, anche perché non si può fare altrimenti, stesso discorso per Fognini e per altri demisi, insomma, cioè, questo sono. E quindi, anche la Kasatkina nel secondo set è stata abbastanza, insomma, altalenante, era avanti di due break, eravamo 4-1 per Kasatkina e servizio Kasatkina, quindi doppio break, poi recuperato dalla stessa Giorgi, che però poi lo risubisce un'altra volta, quindi, insomma, vabbè, fatto stato, perde Camila Giorgi. Per quanto riguarda, invece, il WT 250 di Badonburg, quello che, insomma, viene dopo il 500 di Berlino, quindi rimaniamo sempre in Germania, Lucia Bronzetti è in finale, aveva iniziato questo percorso e forse era proprio un segno del destino, magari, no? Il percorso qui a Badonburg, battendo la Grabber, l'Austria Grabber, che aveva sconfitto in finale a Rabat qualche mese fa. Scusate, se mi tocco il naso è a causa, insomma, di un po' di allergie, quindi, scusatemi, magari non è proprio bello, però non posso fare altrimenti, perché altrimenti me lo strapperei il naso, però, vabbè. Bronzetti che batte Grabber, 2-7 a 0, in quell'occasione a Rabat vinse il suo primo titolo a livello WTA, ci può riprovare nella giornata di domani, e affronterà in finale una fra Signacova e la giovane statunitense, 22enne in realtà, sì, Emma Navarro. Vediamo come andrà anche dal punto di vista delle energie fisiche, perché Bronzetti non ha giocato la semifinale. Il percorso di Bronzetti è stato Grabber al primo turno, Sheriff battuto al secondo turno, Graceva, la russa Graceva battuta ai quarti di finale, e Igas Viontek battuta in semifinale. No, vabbè, scherzo, cioè, non sarebbe possibile, sarebbe fantascienza, però, insomma, Igas Viontek, che si ritira dal torneo, si dice per problemi intestinali, un po' di febbre, insomma, mettiamoci anche il fatto che sarebbe arrivata magari troppo a ridosso, no, dell'inizio di Wimbledon, e quindi, se c'è stato qualche problema, magari ha preso proprio la palla al balzo per via, che sarà mai un 2,50, insomma, al cospetto di un torneo come Wimbledon, da altra parte, è giusto anche così, però vabbè. E quindi Bronzetti gioca una partita in meno, si ritrova in finale, mentre le altre hanno giocato molto più di maniera ravvicinata, ovviamente, più partite rispetto a Levi, sto parlando anche di Signakova, ad esempio, no, che è nella semifinale, ma oggi ha dovuto giocare anche i quarti di finale, visto che ieri era statemente rotto il suo match, no, per pioggia, quindi, insomma, vediamo. Porta sempre sfiga a parlarne, in teoria, di queste cose qui. Però, poi qualcuno dirà, ok, sarebbe stato meglio giocare la partita, però, se avessi, se avesse giocato, avrebbe perso probabilmente contro Sviontek, quindi mi prendo questo wall cover. Però, vabbè, vediamo, vediamo cosa accadrà. Per quanto riguarda Wimbledon, che dire, alla fine è quello più completo, come accennavo già all'inizio, a qualificarsi per il main draw, certo, avremmo preferito anche qualcun altro, no, nel tabellone principale, però, alla fine, Arnaldi ha battuto il cinese Shang al primo turno, rischiando di perdere perché era un set sotto e al tie-break nel secondo set, vinto poi a zero, quindi da lì inizia di fatto il Wimbledon, o meglio, il torneo di qualificazione di Wimbledon di Arnaldi, che poi batte Gaio al secondo turno, 2-7-0, quindi il derby italiano, e batte 3-7-0 perché è al meglio dei cinque set, no, il terzo turno di qualificazione, ed è una cosa che apprezzo perché ti mette in ritmo, no, anche proprio con le partite, al meglio dei cinque set che caratterizzano il tabellone principale, quindi battuto Ferreira Silva, 3-7-0 e Arnaldi, che è il più completo ed è quello più avanti nella preparazione, è quello che se la può giocare al meglio su più superfici, secondo me, e alla fine merita di stare dentro, la classifica gli avrebbe permesso allo stato attuale di essere direttamente nel main draw, essendo numero 79, se non vado errato, anzi dovrà vedere subito, no, 78, 78, però, ovviamente, le entry liste, le qualificazioni vengono fatte, vengono composte tempo prima, e quindi, insomma, all'epoca non aveva la classifica per essere direttamente nel main draw, però, vabbè, Arnaldi qualificato, arrivano all'ultimo turno anche Gigante e Bellucci, che però perdono contro il francese Maillot, che non conosco, e lo svizzero più conosciuto striker, peccato, peccato, insomma. A livello WTA, invece, si qualifica Lucrezia Stefanini, come ho detto in precedenza, che ha battuto la Taiwanese, si è, che rientrava, sì, ok, ma sull'erba è un'ottima giocatrice, tre ore di match, terzo set, vinto al time break dell'italiana, 11 punti a noi, quindi, insomma, un bel modo, secondo me, anche per prendere fiducia, per caricarsi in vista, poi, del torneo, del torneo, magari, uscirà al primo turno, però, insomma, già essersi qualificata, già aver fatto un altro mezzo torneo, insomma, è un motivo di orgoglio, quindi, bravissima, e tabelloni principali, tabelloni principali, partite, insomma, degli italiani e delle italiane, gli italiani, Arnaldi, Carbaglio e Sbaena, ce la può fare Arnaldi, Berrettini Sonico, ironia della sorte, Berrettini un po' così acciaccato, quelle immagini dell'allenamento, no, un po', diciamo, non lasciavano presagire cose buonissime, e guarda caso, ritrova Sonico, che aveva ritrovato proprio a rientro, che aveva trovato a rientro a Stoccarda, e che gli aveva impartito, insomma, una sonora lezione, quindi, come se qualcuno proprio gli avesse rimesso nuovamente davanti Sonico, e dire, ok, misurati nuovamente con questo giocatore, e vediamo se sei migliorato, cioè, sembra fatto apposta per questo, veramente, quindi, Berrettini Sonico, cecchinato Giarrri, Musetti, Variglias, Sinner, Juan Manuel Serundolo, attenzione, non il Serundolo quasi bestia nera di Sinner, ma il fratello, Juan Manuel, quello che vinse, no, partendo dalle qualificazioni, il torneo, l'ATP di Cordoba, nel 2021, se non ero, insomma, fece un'impresa incredibile, ora può essere che ho sbagliato l'anno, però, insomma, vinse l'ATP di casa, Sinner, quindi, contro Juan Manuel Serundolo, e poi, anche se non è una partita, no, che riguarda gli italiani, ho segnato Team Zizipas, attenzione a Zizipas, che sull'erba ha un po' di problemi, attenzione a Team, io ho una sensazione, magari mi sbaglierò di brutto, ma... certo, anche Team non è proprio in ottime condizioni, però potrebbe spuntarla Team, cioè... non lo so, ve lo dico così, di getto, veramente. Per quanto riguarda le ragazze, invece, Brengol, Errani, Bronzetti, Cristian, Rumena Cristian, Giorgi Graceva, Stefanini, Contaveit, sarà proprio Stefanini che si è qualificata a porre fine alla carriera di Contaveit, che dopo Wimbledon si ritira, vediamo, vediamo cosa succede. Cocciaretto, Osorio, Paolini, Kvitova, quindi, già inizia ad essere abbastanza difficile, Trevisan, Sorribe e Stormo, Trevisan è andato a finire il numero 62 in classifica, beh, sì, più o meno dopo essere uscita al primo turno del Roland Garros, vabbè, e poi, ho segnato altre due partite, Williams, Svitolina, due wildcard, Venus Williams, ovviamente, Svitolina, due wildcard, è partita, insomma, abbastanza affascinante per essere un primo turno, e poi, la sedicenne russa, Mirra Andreva, che si è qualificata, e numero 102 al mondo, insomma, primo turno di Wimbledon, quindi, 16 anni, insomma, io a 16 anni giocavo con i Gormiti, forse ancora, vabbè, a parte questo, insomma, avete capito, e quindi questo, ragazzi, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra, questo video è lungo, però, vabbè, per parlare di tutto ciò, poi uno si prolunga, insomma, non se ne accorge spesso, che sta andando un po' per le lunghe, però, vabbè, prendetevi sto video dei 12 minuti, e state vizzitti, no, vabbè, scherzo, buona serata a tutti, e forze azzurri, dai!